Il Foligno perde 0-2 in casa contro un Pisa non spumeggiante ma decisamente più ordinato e con le idee chiare. I bianco-azzurri, dopo una prima frazione tutto sommato equilibrata, si devono piegare in pieno recupero al gol di Perna sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa il Foligno anziché crescere regredisce e dopo un quarto d'ora rimane in 10 a seguito dell'espulsione di Galuppo per somma di ammunizioni. I Falchetti non riusciranno mai ad impensierire la porta toscana. Il Pisa è attento nella gestione e pronto a colpire in ripartenza, anche se alla squadra di Pagliari manca il cinismo per chiudere l'incontro. Lo 0-2 matura al terzo dei sei minuti di recupero concessi dai Luzzi su calcio di rigore per un fallo di Tuia su Perez. Dagli 11 metri è ancora Perna a battere Zandrini, condannando i Falchi alla nona sconfitta stagionale, la terza della gestione Magrini. Un blocco psicologico? No, ci sono delle difficoltà ovvio, perché se sei ultimo classifica, hai vinto solo una gara su 11, quindi problemi ce ne sono. Parlo si devono sbloccare sotto il profilo della responsabilità del provare a giocare. Però io onestamente con il Foggia ero molto deluso. Oggi quantomeno abbiamo provato a fare qualcosa, non è che ci riesce molto, sono chiaro, però tutti ne abbiamo concesso granché al Pisa e siamo venuti fuori anche con delle buone giocate, soprattutto proponendosi con due esterni basse, cosa che in passato avevo visto poco o niente. È vero che ancora da qui vedere una squadra organizzata e fare un buon calcio c'è da fare, però io non la vedo brutta come magari voi. Io sempre ripeto, voi guardate il risultato, io valuto partita dopo partita i progressi che fa la squadra. Coresi ha detto che per l'ultima volta si guarderanno in faccia. Quali problemi ci sono spogliato io? No, ovvio dopo a fine gara io penso che non c'è da reproverare nulla da Coresi che è il capitano che era in preda dei crampi negli ultimi minuti, al più giovane, a Romano che, povero ragazzo, si è dannato l'anima fino al 95esimo, ha attaccato la profondità a Anterzino, cosa che non avevo mai visto fare da qui nelle gare precedenti. Quindi ovvio dobbiamo essere più cattivi. Quello che mi dispiace è che abbia ripreso un gol su una palla inattiva. Io ho sempre detto che voglio l'anticipo e oggi abbiamo preso una palla in peccato perché era finito il primo tempo, dove tutto sommato, primo tempo non bellissimo ma abbastanza accettabile, diciamo. Anche perché due minuti prima avevamo una buona palla noi, dopo l'arbitro lì poteva anche spellere il ragazzo loro perché era fallo in ritardo da dietro, a noi a Gallupo ce l'ha messo subito fuori. Però ho visto anche una buona reazione quando si è rimasto in dieci fino alla fine, la voglia di provare. Ovvio non abbiamo creato grosse difficoltà però quantomeno ci abbiamo provato.